Presidente Gentiloni, siamo agli ultimi mesi prima della caduta del vostro impero. Lei è l'ultimo Presidente... Presidente, io non ho neanche iniziato, se è possibile parlare, altrimenti questa è censura. Onorevole Di Maio, stavo appunto richiamando i colleghi. Io non ho neanche iniziato a parlare. Infatti, colleghi, è lecito pensarla diversamente, ma in aula tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero. Prego, onorevole Di Maio. Dicevo, Presidente Gentiloni, siamo agli ultimi mesi prima della caduta del vostro impero. Lei è l'ultimo Presidente... Colleghi, insomma, colleghi, colleghi, onorevole Albanella. Prego, onorevole Di Maio.